Fujitsu World Tour 2015, oggi abbiamo visto il Palm Secure ID Match. È una soluzione che si basa sul riconoscimento biometrico dell'impronta venosa del palmo della mano che ha però sviluppato delle altre caratteristiche innovative, come ad esempio la possibilità di registrare all'interno di una card RFID piuttosto che smartcard l'impronta venosa del palmo della mano. Questo significa che io mi posso presentare, una volta registrato, mi posso presentare in un punto vendita piuttosto che in un'altra realtà, presentare la mia card e far validare il fatto che sia io il possessore di quella card tramite il riconoscimento del palmo. La cosa innovativa è che i dati biometrici non sono più su un server da qualche parte, su uno storage, ma sono direttamente nella mia smartcard. Questo vuol dire anche che in caso di perdita la smartcard nessuno può utilizzarla, ma allo stesso tempo posso riemetterne un'altra per poterla utilizzare tranquillamente senza nessun problema riguardo a quella che ho perso. Questa è Palm Secure ID Match, che è una soluzione by Fujitsu. Grazie a tutti.